BMW M140i 2017 Abbiamo un motore 6 cilindri in linea da 3 litri di un power turbo benzina con 340 cv Abbiamo una trazione posteriore di una massa in ordine di marcia di 1545 kg Abbiamo una trazione posteriore di marcia di marcia di marcia di marcia di marcia Abbiamo una trazione posteriore di marcia di marcia Abbiamo un cambio automatico 8 marcia Steptronic Sport Abbiamo una velocità massima di 250 kmh ed uno 0-100 kmh con 4,6 secondi Abbiamo una pulsante Grazie a tutti.